Rieccoci, benvenuti sempre qui in diretta a Palazzo Mezzanotte per affrontare temi caldi del mondo HR e del mondo del lavoro, per analizzarlo nella sua interezza. Abbiamo parlato dell'evoluzione, della trasformazione che il lavoro sta vivendo con l'intelligenza artificiale, abbiamo affrontato i problemi che lo riguardano sempre più da vicino e abbiamo modo ora di affrontare un'altra sfumatura che riguarda il settore lavorativo e lo facciamo con gli ospiti qui sul palco con me, do il benvenuto a Gianfranco Fabi, editorialista economico, buongiorno. Do il benvenuto, il ben ritrovato all'avvocato Luca Failla, founder dello studio legale Failland Partners. Buongiorno. Buongiorno anche a Luca Lattuada, Group Chief Human Resources Officer di Acqua e Sapone. Buongiorno. Buongiorno. E concludo dando il ben ritrovato anche a Federica Vernero, Head of People and Culture dell'Istituto Helvetico Sanders. Buongiorno. Con voi questa volta affrontiamo un altro tema attuale e direi anche prezioso che riguarda la sfida globale per attrarre e trattenere i talenti. Sono due argomenti chiave oggi più che mai perché perseguire questo obiettivo in un mercato che cambia e in un mondo come quello del lavoro costantemente indivenire, perseguire questa finalità non è così immediata. Nel mondo del lavoro stiamo attraversando una trasformazione profonda, ci sono diversi fenomeni in atto, molti anche difficili da decifrare. Da un lato infatti il mercato offre opportunità eppure diventa poi difficile quasi paradossalmente trovare i profili giusti, i talenti necessari per l'azienda. E dall'altro in questi ultimi mesi più che mai si è visto un altro grande cambiamento. L'intento di molti nell'attuare una sorta di riflessione profonda sulla propria vita, rivedere le proprie priorità e anche conseguentemente cambiare le proprie scelte professionali. Sono evoluzioni radicali che per il futuro comporteranno nuovi cambiamenti. Per questo, cominciando con l'Avvocato Failla e il Dottor Fabi, vorrei sottoporre uno spunto che coinvolge da vicino il nostro Paese. A partire dalla pandemia e poi fino al 2023 abbiamo assistito a una fuga generale dal mondo del lavoro, non solo in Italia ma in tutti i paesi industrializzati. Negli ultimi tempi in realtà il problema sembra rientrato, in qualche modo ridimensionato. Quindi possiamo dire che in Italia il fenomeno delle grandi dimissioni sia ormai alle spalle e se si è aperto un nuovo ciclo del lavoro, come possiamo interpretarlo correttamente, accoglierlo. Grazie, grazie mille. Indubbiamente la domanda è quasi temeraria, sapere come potremo andare avanti, che cosa fare in futuro. Direi che uno dei temi principali è quello di smontare alcuni pregiudizi, alcune visioni che ci sono, alcune visioni anche apocalittiche che riguardano il mondo del lavoro e che riguardano le prospettive della nostra società. Potrei cominciare magari citando un libro di 30 anni fa, La fine del lavoro, di Jeremy Riffin. Questa edizione francese l'ho comprata casualmente a Parigi 30 anni fa, appunto nel 1995. Già il titolo dice La fine del lavoro e già nel testo si delinea il fatto appunto che dice gli stati vacillano sotto l'impatto di una rivoluzione tecnologica che gettano milioni di individui nella disoccupazione. La mondializzazione dell'economia e l'automatizzazione dell'agricoltura e dell'industria e dei servizi trasformeranno a grande velocità il paesaggio politico in tutti i paesi. Ecco questo 30 anni fa. Ovviamente cambiamenti ci sono stati, cambiamenti anche forti. 30 anni fa era appena iniziata l'era di internet, i telefonini c'erano ma servivano solo per telefonare, non erano ancora degli smartphone, il lavoro a distanza era qualcosa di cui non si parlava. Ci sono state le grandi rivoluzioni però il mondo non è crollato, il lavoro non è finito, la fine del lavoro è stata delle tante profezie fallite. Ecco un altro elemento magari tornando appunto più da vicino come sottolineava quanto è avvenuto durante e dopo la pandemia è che si prevalga appunto il lavoro precario, si parla molto di precarizzazione del lavoro. Ora gli ultimi dati sull'occupazione in Italia negli ultimi mesi del 2023, nel primo trimestre del 2024 dimostrano che stanno crescendo i lavori a tempo indeterminato, cioè i lavori con contratti stabili, con contratti regolari non stanno crescendo i lavori precari, crescono a velocità molto maggiore i lavori a tempo indeterminato. Quindi anche questa precarizzazione del lavoro di cui si parla tanto è più un mito, quasi una favola perché poi c'è certamente il lavoro precario, il lavoro sottopagato, il lavoro marginale, il lavoro di persone che non riescono a entrare o che magari non vogliono entrare perché c'è anche un lavoro precario come diceva nella precedente tavola rotonda di gente che sceglie di fare il lavoro perché è più opportuno per esempio per un professionista, per chi ha una validità tecnologica offrire i propri servizi a tre o quattro aziende piuttosto che una sola, guadagna molto di più, può organizzare meglio il proprio tempo libero. Ecco quindi questa diciamo demonizzazione del lavoro precario è un altro dei miti da sfatare. Quindi per questo direi sfatiamo il mito della fine del lavoro, sfatiamo il mito che il lavoro precario sia qualcosa di demoniaco e di infernale e abbiamo una prospettiva appunto in cui possiamo offrire una dimensione del lavoro costruttivo, una dimensione del lavoro che non è certamente più quella di un tempo, le possibilità operative, lo smart working, offrono delle capacità di dare delle risposte a delle persone. C'è tuttavia un problema di fondo per la realtà italiana che le statistiche, una recente indagine della Gallup dimostra per esempio che l'engagement dei dipendenti italiani, cioè la passione e il riconoscimento di vivere all'interno di un'azienda, di riconoscersi in questa azienda è molto inferiore di quello di altri paesi, non supera l'8% le persone impegnate che si riconoscono nella propria missione come una missione dell'azienda. Ecco questo è un problema di motivazione, è un problema di organizzazione aziendale, è un problema anche di capacità in fondo di cogliere quelle che sono le opportunità. Dipende da molti fattori, abbiamo un retaggio in fondo di lotta di classe, di lotta di classe in cui l'operaio doveva comunque contrastare il padrone e quindi non si riconosceva nell'impresa. Abbiamo una difficoltà, abbiamo avuto per esempio per anni, per decenni abbiamo ancora una difficoltà ad attuare quella disposizione peraltro della Costituzione che invita le aziende ad aprire alla partecipazione dei dipendenti e alla partecipazione nazionaria. Il sindacato italiano, talvolta la CISO, il sindacato italiano è stato fermamente contrario alla partecipazione dei lavoratori, proprio per affermare una divisione tra i padroni e gli operai. Ecco, questi sono elementi di fondo, magari descritti in maniera un po' casuale, che però dicono che ci sono dei passi da fare per affrontare questo tema del lavoro, per dare delle prospettive ai giovani, se no ne parleremo sicuramente più avanti, la prospettiva dei giovani che lasciano l'Italia, che vanno a lavorare all'estero è qualcosa di molto concreto. Certo, sicuramente è un problema attuale, a breve avremo modo di affrontarlo nel dettaglio e ecco la luce di questa analisi, di questo quasi tuffo nel passato, un retaggio che ha comunque una ricaduta sul presente e conseguentemente anche sul mercato del lavoro del domani. All'avvocato Failla, io pongo la stessa domanda, quindi se si è aperto effettivamente un nuovo ciclo nel mercato, come abbracciarlo correttamente? Sì, certo, quando abbiamo letto la fine del lavoro, già dal titolo, abbiamo preso tutti perché diceva, facci capire come funziona, poi lui ha preso delle sbandate, poi è tornato indietro sulle sue previsioni, si è lanciato sul tema climatico, anche lì sarà un disastro poi. Allora, io non lo so se in Italia abbiamo avuto, perché anche quello è controverso, è il fenomeno delle grandi dismissioni, è un fenomeno nordamericano, eccetera, eccetera. Sicuramente, poi i dati dell'aumento dell'occupazione, questi ci sono evidentemente, qualcuno dice grazie al cielo non c'è più reddito di cittadinanza e quindi la gente deve smettere di stare sdraiata sul divano, questa è la lettura malevola, la lettura benevola invece, però abbiamo sempre, mi sembra, 4 milioni di net, giusto, più o meno sempre quel numero lì, not in education, not in employment, quindi 4 milioni e tanta roba, sono tanta roba. Allora, io non lo so se abbiamo avuto, ripeto, questo fenomeno delle grandi dismissioni, i clienti con cui ho a fare, io sono aziende medio-grande italiane o multinazionali, non l'hanno patito questo fenomeno, anzi, semmai il fenomeno che patiscono è diverso, è la mancanza di turnover in quello zoccolo duro di persone sedute, tra virgolette, lo dico positivamente però, sedute nel senso che sono fedeli, si riconoscono in quell'azienda, se non succede qualcosa di eclatante non andranno mai via da quell'azienda, non la lasceranno mai, che però è anche un tema di motivazione, cioè nel senso che sono qua, so cosa devo fare alla mattina, eccetera, è una specie di routine, non investo neanche su me stesso, perché tanto questa azienda non mi manderà mai via e io rimarro così fino tendenzialmente alla pensione che si allunga sempre di più, eccetera. Allora, però il tema della motivazione c'è, questa cosa qui, quella ricerca che citava prima, cioè di quanto poco i lavoratori italiani sono, come dire, felici del lavoro che fanno e di dove lo fanno? E la risposta allora è, ma trovati un altro lavoro, trovati il lavoro che vuoi fare per la vita, cambia mestiere. No, io sono qui, sto qua, però non mi piace il lavoro e non mi piace l'azienda, e a lì abbiamo un problema gigantesco, perché lì avete, nel senso, uomini e donne di Eciara hanno un problema gigantesco, come fai a motivare gente che ti rema contro? Che sta lì solo perché tu gli paghi uno stipendio. d'altronde, voglio dire, il verbo lavorare, da un certa parte d'Italia, io lo dico da origini meridionali, si chiama faticare. Vado a faticare, non vado a lavorare, vado a faticare, la fatica, quindi lo devo fare perché mi danno uno stipendio, perché mi serve per campare. Cioè, ovvio, non c'è più l'etica del lavoro, dove io mi realizzo nel lavoro, magari non c'è mai stata, però neanche l'opposto. Quindi questo è un tema grosso. E' un tema di mentalità, perché poi apro e chiudo una parentesi, ormai dopo, diciamo così, tanti anni, gli psicologi del lavoro ci insegnano che le persone portano nel lavoro quello che sono, quello che sono nella vita, quelli che sono nella vita, quelli che sono nella famiglia, le cose buone e le cose meno buone che hanno vissuto, non dico i traumi, ma le aspettative, cioè il proattivo è quello seduto passivo che va al lavoro con noia e cioè si porta dietro quel substrato. E quindi in realtà i problemi del lavoro sono i problemi di una società, di una società che è sempre più complicata, perché oggi viviamo in un mondo molto più complicato di 10, 15, 20 anni fa. Era più semplice, si diceva c'erano 10 mestieri, sceglievo quel mestiere oppure andavo in fabbrica. Se volevi studiare poi avevi dei mestieri e avevi dei percorsi tracciati. Adesso non ci sono più percorsi tracciati, non c'è più certezza, c'è una società fluida, con tanti problemi, lasciamo perdere quelli del mondo, ma anche solo... E quindi è chiaro che io mi porto nel lavoro di tutti i giorni tutte queste perplessità, queste difficoltà, questi dubbi, queste paure. È più difficile gestire la massa dei dipendenti oggi che 10, 20 anni fa. No, sono loro gli esperti, ma mi pare che sia molto più complesso farlo oggi che non 10, 20 anni fa. Sicuramente, e quindi qui ora passo alla dottoressa Vernero e al dottor Lattuada, questo cambiamento a cui faceva riferimento l'avvocato, voi lo toccate con mano in azienda. E quindi ora mi rivolgo a voi per avere un punto di vista interno all'azienda, perché per entrare nel vivo della questione, ecco, attrarre i talenti è il primo step da raggiungere. E se abbiamo visto che il pericolo di fuga generale, se così possiamo definirlo, è rientrato, quel che è certo, e precedentemente il dottor Fabilo lo stava dicendo chiaramente, c'è un altro problema che è molto attuale e che, insomma, a scalfire sembra alquanto difficile, ovvero l'abbandono dei giovani che lasciano l'Italia e vanno all'estero. Ecco, questo è un problema reale e il centro in Audi, un ultimo report datato primo giugno 2024, quindi recentissimo lo conferma, negli ultimi dieci anni 1,3 milioni di giovani hanno lasciato l'Italia per l'estero. Quindi c'è evidentemente qualcosa che manca nel mercato lavorativo italiano, c'è qualcosa che non lo rende attraente. Allora vi chiedo qual è la strategia da mettere in atto per permettere all'azienda di avere quell'appeal necessario per i più giovani. Come si può fare per accaparrarsi i talenti migliori? Sono stati posti tanti temi fino adesso. Prima di rispondere dico anche io una parola sulle grandi dimissioni. In realtà, anch'io credo che non ci sia stato, almeno in Italia, questo fenomeno così forte. C'è stato sicuramente un rimbalzo dovuto al fatto che nel 2020 e nel 2021, a causa della pandemia, il mercato del lavoro era sostanzialmente bloccato, completamente bloccato e quindi nel momento in cui si è ritornati alla normalità, evidentemente tutte quelle persone che avrebbero comunque cambiato lavoro in quel biennio lo hanno fatto diciamo immediatamente dopo. È pur vero che se non c'è stato il fenomeno così acuto delle grandi dimissioni, certamente rispetto agli anni pre-pandemia, almeno per quello che è lo spaccato che posso vedere io, sicuramente il livello di turnover all'interno delle aziende è aumentato. Ed è aumentato anche perché sono entrate o stanno entrando in azienda delle generazioni e vado quindi alla domanda che hanno delle aspettative che sono un po' diverse rispetto a quelle anche solo di chi è entrato in azienda pochi anni fa. Dalla mia esperienza lavorativa mi accorgo che anche noi che lavoriamo nelle risorse umane dobbiamo cambiare completamente, abbiamo dovuto cambiare completamente approccio nella relazione con le persone e nel tipo di relazione che avevamo solo 5 o 10 anni fa. Sono avvenuti più cambiamenti negli ultimi 5 anni probabilmente che nei 15 anni precedenti. Il fenomeno dei ragazzi e delle ragazze che vanno all'estero, che dopo la laurea o anche per gli studi vanno all'estero, quindi non è soltanto il post studio, il post laurea o il post diploma, ma è anche prima, è anche nel momento del ciclo scolastico che scelgono di andare all'estero, è un fenomeno che c'è, che è evidente ed è evidente per, a mio giudizio, due principali ordini di motivi. Sicuramente c'è un aspetto di retribuzione. Le retribuzioni in alcuni paesi europei, se parliamo di chi va in Germania, in Olanda, in Danimarca, adesso in Inghilterra, nel Regno Unito è diventato un po' più complicato ultimamente, però fino a poco tempo fa insomma si poteva... Sì, era la meta più gettonata. Esatto, era molto più gettonata, non fosse altro per una questione linguistica. Evidentemente trova delle retribuzioni a parità di lavoro che sono diverse e qui si apre quindi il tema, si apre il tema retributivo che in Italia magari le aziende non riescono a colmare questo gap per una serie di ragioni. Quindi c'è un primo spunto, c'è una prima pressione che è dovuta all'ambizione di comunque guadagnare di più fin dal primo lavoro, fin dal primo lavoro post laurea, se parliamo di lavoriati. E poi a mio avviso c'è un tema di aspettative rispetto alle aziende. Il nostro tessuto imprenditoriale non è fatto solo di grandi aziende. Molto spesso quando noi parliamo, almeno siamo qui a Milano, parliamo di lavoro, siamo molto focalizzati sulla realtà magari milanese, lombarda, della grande azienda o della multinazionale, della filiale italiana o della grande azienda italiana. Però il nostro tessuto socio-economico non è fatto solo di queste aziende e non è fatto solo di Milano e quindi diciamo che le aspettative che magari hanno i nostri ragazzi, le nostre ragazze di anche trovare un ambiente di lavoro dal punto di vista dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione tecnologica, degli stimoli all'attività lavorativa, all'attività progettuale che possono portare, magari non risponde alle loro aspettative che invece possono trovare in altri paesi, in altre realtà. Quindi ci sono due aspetti. Uno prettamente economico, retributivo, ma c'è anche probabilmente un aspetto invece più legato agli stimoli che possono ricevere e alla prospettiva, non tanto di carriera, quanto proprio di esecuzione del tipo di lavoro che possono svolgere e di messa sul campo delle loro competenze e capacità in un ambiente tecnologicamente voluto e stimolante. Io penso che se sono analisi più che corretta, quantomeno posso trovarmi pienamente in accordo con una serie di esigenze, quelle che sottolineava, che si fanno sentire per chi lavora, per chi vuole in qualche modo farsi strada maggiormente nel mondo del lavoro. Mi sembrava d'accordo anche la dottoressa Vernero, quindi passo a lei la parola per avere il suo punto di vista. Sì, ma allora, sempre parlando di attrazione di talenti o giovani talenti, perché in questo momento parliamo anche di quella fascia d'età. Mi piace anche aggiungere ai numeri che abbiamo dato prima, dei numeri che sicuramente rendono forse il quadro leggermente più a tinte fosche, nel senso che se guardiamo la totalità degli italiani che oggi sono all'estero, si spiorano i sei milioni, i stranieri in Italia sono cinque, quindi già questo ci dovrebbe far pensare. E se guardiamo il fenomeno dinamico, cioè non fotografando solo il milione e trecento mila giovani o le scelte che in maniera dinamica negli ultimi anni sono state fatte, la cosa che a me ha colpito molto, al di là del fatto che sempre di più sono i giovani ad andare all'estero e sempre di meno gli over 50 ad andare all'estero, quindi questo è un fenomeno di giovanellizzazione della scelta dell'estero che un po' è figlio della curiosità della nuova generazione, perché il mondo non finisce con l'Italia e questo dobbiamo sempre ricordarcelo, un po' ha degli elementi anche abbastanza misurabili che un po' la Tuoda ha citato prima. La cosa secondo me più spaventosa di questi numeri è che se si vanno a guardare le statistiche dei dottoranti, dei dottorandi e dottorati, praticamente abbiamo un esodo totale e quindi questo in termini prospettici a me preoccupa molto, pur non essendo io un potenziale datore di lavoro di un dottorato, perché in questo momento mi occupo di una realtà più retail. Però in generale rispetto all'attrattività per un giovane, anche qua ci vengono in aiuto i dati. Recentemente Ipsos, anzi Confindustria Giovani credo abbia commissionato una ricerca Ipsos proprio legata a questa percezione dei giovani rispetto al mercato del lavoro italiano. Viene fuori, mi ricordo un numero in particolare, il 62% dei giovani intervistati ha una percezione negativa dell'impresa italiana che giudica poco stabile in termini di proposta lavorativa, poco meritocratica, paga anche poco, però questo ormai è abbastanza noto e non garantisce insomma una adeguata prospettiva in termini di autonomia. Quindi per me la risposta a questa domanda si gira rispetto a questa necessità e questa percezione, ribaltare la percezione di questo vuol dire lavorare anche su un concetto senza scimmiottare modelli appunto multinazionali o extra italiani perché la costellazione di PMI è il nostro tessuto italiano, però sicuramente andando a lavorare su questi aspetti. Non ripeto quello che ha detto il collega, cioè al di là delle scelte anche di riposizionamento del lavoro rispetto alla propria identità e al proprio modo di essere, il tema retributivo è un tema grosso come una casa, nel senso che è il motivo che spiega la famosa statistica dei giovani con educazione terziaria superiore che emigrano in massa. C'è anche un tema più legato alla dimensione di come posso io, giovane talento, in un'impresa italiana trovare il mio spazio. Qui secondo me più che appunto scimmiottare modelli è un po' ricondividere ognuno per la sua parte un po' il proprio DNA. Cioè la piccola e media impresa italiana è anche un'impresa se vogliamo vedere questa possibilità in cui c'è sicuramente la possibilità di plasmare o comunque di contribuire in maniera più rotonda a quello che può essere una carriera professionale. Stiamo anche assistendo anche a fenomeni in cui ci sono anche giovani alla seconda o terza esperienza lavorativa che scelgono di uscire dalla multinazionale per entrare in un contesto più piccolo dove mettere la firma, dare l'impronta. Quindi secondo me è un po' un mix di queste cose. Imitare nel senso più positivo del termine quello che culturalmente è la domanda e del bisogno del giovane talento italiano europeo di oggi, quindi un po' lo stare in azienda in una maniera diversa dal passato ma anche capire in termini proprio di DNA di impresa quello che posso offrire in maniera differenziale, in maniera anche di identità aziendale, di diverso insomma ad un potenziale candidato. Certo, mi lascio subito parlare dottor Fabio, volevo solo commentare il fatto che in effetti con imitazione forse possiamo dire il prendere il buono, prendere d'esempio quello che può essere un vantaggio, un miglioramento per l'azienda e al contempo essendo il nostro mercato tappezzato di piccole e medie imprese, ognuna ha il suo unicum, ognuna ha una diversità che la contraddistingue, che può essere il valore aggiunto per attrarre talenti probabilmente. Io volevo appunto sottolineare due cose proprio proseguendo in questo discorso, la prima è che sta un po' cambiando anche diciamo la geografia dell'esodo dei giovani italiani all'estero, ci sono gli aspetti retributivi, ci sono gli aspetti di maggiore facilità di carriera e questi sono soprattutto legati appunto a diciamo così all'immigrazione tradizionale degli ultimi anni, in Svizzera, in Germania, meno in Gran Bretagna, era molto di più negli anni passati con persone che hanno fatto la fortuna in Gran Bretagna partendo dal nulla in Italia, abbiamo scoperto nei giorni scorsi che un conte inglese da 40 anni in Gran Bretagna che ha iniziato a lavorare nella finanza a Londra 40 anni fa è diventato uno dei più grandi proprietari terrieri inglesi e adesso ha comprato un palazzo a Milano, quindi possibilità di carriera ce ne sono e non sono casi singoli e quindi questo ha motivato appunto negli anni passati questa tendenza della ricerca del lavoro all'estero che c'è sempre stata, è cresciuta negli ultimi anni e uno dei cambiamenti che sono avvenuti è quello che non ci sono più solo le tradizionali mete europee o in America ma sta crescendo l'attrazione degli emiliati arabi, sta crescendo l'attrazione di Dubai che offre interessanti prospettive di carriera, possibilità operative, spiagge incontaminate e in cui si stanno formando anche delle comunità di persone per cui anche il giovane che va a lavorare a Dubai non si trova spaisato in un mondo diciamo con abitudini completamente diverse ma può integrarsi in una comunità già abbastanza consolidata quindi ci sono queste spinte nuove che è difficile contrastare e allora qui volevo introdurre il secondo tema che è importante a questo punto più che cercare di contrastare questo esodo cercare di farli tornare prima o poi e questo per farli tornare perché potrebbe essere veramente un vantaggio o un valore aggiunto per le imprese acquisire dei giovani, magari un po' meno giovani dopo 4-5 anni di esperienza all'estero che hanno delle competenze internazionali sicuramente molto più approfondite molto più valide, molto più sperimentate rispetto a chi appunto esce dall'università e deve entrare in azienda e fare il suo percorso di carriera avere queste persone che possono avere delle motivazioni per tornare magari appunto perché dopo un po' si si stanca anche delle spiagge di Dubai e perché magari si vuole tornare a un ambiente come quello italiano che comunque in cui la qualità della vita è certamente elevata in cui ci sono dei rapporti anche familiari che non vanno messi in secondo piano ecco dare delle occasioni e spingere attraverso appunto delle opportune politiche non solo di carattere fiscale ma anche di carattere più generale spingere queste persone a tornare in Italia potrebbe essere un valore aggiunto per l'intera economia italiana e questo è uno dei temi secondo me su cui bisogna riflettere bisogna cercare delle possibilità operative anche a livello di marketing, promozionale, quello che vogliamo ma far conoscere la realtà italiana chi conosceva la realtà italiana cinque anni fa se ne è andato ma dobbiamo dargli degli stimoli per tornare sicuramente è uno spunto interessante lo colgo subito per rivolgermi sia a lei sia all'avvocato Failla sulla questione perché in effetti se c'è questo grande esodo che una volta seguiva, lo diceva giustamente poco fa una geografia precisa inizialmente da sud a nord in Italia poi verso il nord Europa in senso lato e adesso insomma si è esteso ulteriormente ma qual è il segreto, la strategia forse per tornare solo recuperare quella competitività salariale a cui abbiamo fatto riferimento o penso al marketing a cui diceva penso a un altro tema di cui si parla tanto la settimana da quattro giorni che in Italia è fatica ad attecchire penso a un lato più umano magari un'attenzione maggiore per la persona prima ancora che per il lavoratore ecco qual è il segreto, se c'è un segreto o forse visto che ho visto un po' di diciamo subbuglio c'è il mare queste distese di spiaggia a cui invece non ci si stanca mai magari è quello il motivo ma indubbiamente secondo me un segreto non c'è ci sono tante casi individuali che vanno visti appunto nella loro complessità che vanno visti anche come elemento che caratterizza un po' un'evoluzione sociale bisogna fare in modo che queste realtà non vengano dimenticate, non vengono date per scontate non vengono considerate appunto come delle realtà perdute questo è un compito diversificato che va dai mezzi di informazione alla politica, alle politiche aziendali alle politiche sulle risorse umane delle imprese e così via adesso soprattutto in questa fase in cui l'informazione non ha più i confini cioè non è che i giornali ormai sono tramontati l'informazione si fa con altri mezzi che raggiungono ma un po' in una dimensione globale quindi anche io lo vedo come da vecchio giornalista insomma superare la visione tradizionale e cercare di fare un'informazione che vada anche a informare appunto queste persone questi giovani che sono andati all'estero che sono a lavorare farli sentire ancora parte integranti di una realtà, di una comunità, di una comunità di valori come può essere quella di una realtà italiana ecco questo è difficile sicuramente bisogna fare tanti percorsi dico magari di carattere fiscale magari di carattere normativo magari di carattere di integrazione che superi i problemi spesso burocratici che accompagnano il trasferimento di una persona da un paese all'altro ricongiunzione di carriera ricongiunzione dei contributi previdenziali sono tanti problemi che sono collegati attorno alla possibilità di far tornare queste persone dall'estero vanno visti nella loro complessità però vanno visti cioè mi pare che per adesso tranne qualche facilitazione fiscale che è servita più a far venire dei calciatori in Italia con delle facilitazioni fiscali venendo appunto dall'estero più che far tornare appunto delle persone italiane dei giovani dei tecnici dei competenti italiani farli tornare attraverso delle facilitazioni fiscali va visto in maniera un po' complessiva ma va visto come un problema un problema che mi sembra che non sia nell'agenda della politica in queste fasi e che non sia nemmeno nell'agenda delle piccole e grandi imprese secondo l'avvocato Faile invece c'è un segreto una strategia? no segreto non c'è in realtà c'è una legge sul rientro tra virgolette dei cervelli che presenta queste facilitazioni fiscali è servita per far arrivare come dire gente che guadagnava già tantissimo e farli guadagnare ancora di più perché hanno pagato poche tasse però faccio una metafora calcistica cioè se tu sei un giocatore bravo italiano di calcio e dice puoi giocare nel Milan nell'Inter nella Juventus e ti danno uno stipendio adeguato ai parametri italiani poi ti dice guarda ti cerca il Real Madrid ti cerca il Barcellona ti cerca il Manchester ti cerca il Paris Saint Germain cosa fai? vai lì vai lì nel senso che vai dove ti danno di più vai dove hai una visibilità perché sei sicuro di arrivare in semifinale o in finale di Coppa Campioni mentre invece se giochi con una squadra italiana sei a casa sei vicino a casa vedi la mamma vedi il papà vedi i tuoi amici però in finale di Coppa Campioni non ce l'ha la certezza di arrivarsi ma neanche in semifinale no? al di là dei denari che ti pagano di più quindi c'è un percorso di crescita c'è un percorso di denari ma c'è un percorso di crescita di crescita professionale di investimento su te stesso adesso questo ho fatto l'esempio estremo ma è così quando noi i nostri neolaureati di Bocconi di digegneria prendono o anche di medicina prendono e vanno all'estero no? noi abbiamo un enorme danno come sistema paese danno perché quelle persone lì hanno fatto degli studi le abbiamo pagate mediamente 200 forse anche di più 1000 euro per la loro formazione perché in termine la scuola peraltro la scuola italiana funziona quindi questi vanno all'estero e sono bravissimi ce li rubano ma è che sono bravi quindi è difficile farli tornare io non credo che sia solo un tema di marketing queste persone cioè se devo lavorare sullo straniero marketing ci può stare ci può stare ma se devo convincere un neolaureato milanese o torinese o romano che è andato a lavorare all'estero cioè non posso lavorare sul marketing perché lui lo sa che l'Italia è il paese più bello del mondo tant'è vero che lui vive le vacanze e ci torna in Italia cioè questo il paese l'Italia è il paese delle vacanze di ritorno di questi nuovi di questi nostri connazionali perché è ovvio che stanno lì cioè non è bello vivere in Belgio ragazzi non è bello vivere in Svizzera nel cantone anche bellissimo dorato dove vanno cioè non è bello non è bello adesso piove fa freddo sono 5 gradi non è bello sanno anche loro ma lo sanno benissimo il problema è che loro poi alla fine guardano altre cose quindi non credo sia un tema di marketing il tema fiscale certamente interessante però il tema fiscale non è scollegato e non può essere scollegato col tema del salario cioè Ronaldo è venuto alla Juventus perché gli davano non mi ricordo se 30 milioni all'anno dove lui pagava 200 mila euro di tasse ha detto ha fatto i miei conti mi conviene ma ha trovato qualcuno che gli dava 30 milioni all'anno se io guadagno 250 mila euro all'anno in Inghilterra non più diciamo in Svizzera diciamo in Danimarca diciamo in Olanda e ho 35-40 anni devo trovare al di là del dato fiscale devo trovare qualcuno che mi dà più o meno gli stessi soldi in Italia cioè è lì il problema perché l'Italia è un sistema purtroppo competitivo che non riesce in tema di salario noi siamo sotto i salari europei quindi è lì un problema grosso cioè come faccio a convincere a tornare a casa lui vorrebbe tornare a casa ma quanto lo paghiamo e col gioco delle tasse non riesci poi al netto del fatto che magari ti sei sposato hai una moglie straniera hai figli che parlano tre lingue vanno nella scuola che tu vieni in Italia è un disastro cioè al netto di quello certo queste sono altre variabili che magari si aggiungono al netto di quello al netto di quello abbiamo quel problema lì quindi io faccio fatica a immaginare questo quando rientrano quando hanno fatto io ho esperienze di aziende che hanno rientra il cinquantenne cioè rientra il cinquantenne che si è stancato perché ormai i figli sono grandi sono andati a studiare in America sono andati a studiare in America e lui a quel punto torna a casa perché? perché magari ha la mamma un po' più anziana e deve curare e allora è quello lì però ragazzi stiamo parlando di numeri esigui non è che il sistema paese può fare conto su quella roba lì allora una volta c'era ma c'è ancora nord-sud cioè sud-nord perché a Milano comunque voi andate sulla metropolitana e sentite parlare tutti i dialetti d'Italia è sempre di più ma di ragazzi giovani di ragazzi giovani quindi l'immigrazione l'immigrazione sud-nord è così è così nei nostri studi nel mondo dell'avvocatura milanese sono tantissimi i neolaureati o gli avvocati del sud 110 lode che si laurano a Napoli che si laurano a Bari che si laurano benissimo a Palermo eccetera che vengono a Milano perché? perché lì non trovano sufficiente lavoro cioè non ce n'è vengono a Milano fanno un investimento e dopo 4, 5, 6 anni dicono vorrei tornare giù allora tu hai due possibilità e le aziende lo stanno facendo tu hai due possibilità uno lo perdi due investi dici ok ti lascio tornare giù ti lascio tornare giù ti lascio lavorare da casa perché? perché lavorare in Puglia da casa è molto meglio dalla Sicilia dalla Campania è molto meglio anche in temi economici perché se io non devo mantenermi un affitto a Milano che costa 2.500 3.000 euro al mese ho comprato la casa eccetera torno a casa il mio valore salario già aumenta di 2.000 euro quindi c'è anche quel tema lì allora dobbiamo aiutare anche solo a rimanere a rimanere qui quindi io credo che sia questo i ragionamenti e torniamo su un punto sono le aziende che hanno la responsabilità di gestire e di far sì che queste cose succedano perché se no le persone le perdono io credo che l'ho imparato l'ho imparato dalle aziende tutti i giorni cioè vedo che sono loro 20 anni fa non era così l'azienda è così se vuoi così se no adesso no non si può più dire se vuoi così se no no sei tu che devi cambiare sei tu azienda che devi mettere in piedi dei modelli e dell'organizzazione del lavoro che consentano a tutti anche solo di non perdere le persone che hai su cui hai fatto degli investimenti far tornare dall'estero chi ha fatto queste scelte consapevoli che poi hanno quasi sempre dato dei grandissimi successi perché è difficile che uno torna con le cioè non è l'immigrazione dell'argentina dei primi del novecento che poi tornavano a casa con le pive nel sacco perché era andata male va sempre bene qui qui va sempre bene l'argentina uno è tornato a fare il papa quindi anche a lui è andata bene allora diciamo questo di sicuro però ecco se abbiamo parlato della necessità delle aziende di in qualche modo attrarre i talenti mi rivolgo proprio alle aziende quindi al dottore Latola della dottoressa Vernero per parlare non solo di attrazione ma anche dello step successivo trattenere i talenti ecco in un mercato sempre più competitivo che cambia in tempi record che è così fluido quali sono le strategie evidentemente non così facili per trattenere i talenti puntare su welfare puntare sull'immagine dell'azienda sulla competitività di un'organizzazione i fattori possono essere molti lo chiedo a voi ma allora sarebbe facile rispondere a questa domanda con tutto quello che sentiamo ormai da un po' di anni a questa parte quindi il welfare il benessere lavorativo all'interno dell'ufficio lo smart working la possibilità di avere comunque la possibilità di lavorare da remoto la non necessità di frequentare sempre l'ufficio tutti i giorni della settimana sono temi che ormai insomma fanno parte del nostro quotidiano per chi lavora nelle risorse umane ma anche per chi non lavora nelle risorse umane lo leggiamo in continuazione però io invece vorrei puntare su un altro tema di cui secondo me si parla troppo poco al di là del fatto che le cose che ho detto sicuramente sono utili servono perché come ha detto giustamente l'avvocato Failla fino a un po' di anni fa era l'azienda che diceva cosa serviva al candidato al dipendente e se andava bene era così se non andava bene c'era un'altra strada da prendere oggi invece il rapporto è molto più paritario e a volte siamo noi stessi invece che dobbiamo seguire quelle che sono le ambizioni e le esigenze del candidato o del collaboratore il tema invece che mi piace introdurre è il tema della cultura manageriale all'interno delle aziende italiane cioè io troppo spesso mi trovo a dover affrontare mi sono trovato mi trovo quindi nel mio percorso professionale trovato ad affrontare situazioni in cui i manager di tutti i livelli dal responsabile di un gruppo dal team leader dal caporeparto fino a salire diciamo così nei livelli più alti dell'organizzazione a parole si occupano delle persone ma nei fatti non lo fanno nei fatti non lo fanno perché non lo fanno per tante ragioni in primis perché siamo troppo occupati a fare riunioni a scrivere mail e a rispondere alle mail e quindi non c'è più il tempo fisico per dedicarci alle persone al nostro team soprattutto chi ha dei team molto allargati perché se devo gestire 20, 30, 50 persone è faticoso è un lavoro faticoso però è il lavoro principale di un manager a qualsiasi livello cioè occuparsi del suo team farlo crescere ascoltarlo far sì che il suo gruppo di lavoro apprenda e cresca i migliori dovrebbe essere una sua prima preoccupazione per raggiungere i suoi obiettivi perché da solo non può raggiungere nessun obiettivo e purtroppo per una serie di motivi per una serie di motivi questa cosa secondo me avviene sempre di meno all'interno delle aziende un po' perché è faticoso parlare con le persone bisogna stare lì ascoltarle avere delle risposte argomentare e quindi manca un po' questa cultura manageriale un po' perché abbiamo sempre meno tempo diciamo queste figure di linea hanno sempre meno tempo da dedicare alle persone perché sono eccessivamente concentrati sulla l'operatività quotidiana sul far funzionare l'operatività quotidiana e quindi lo spazio da dedicare al loro team si riduce drasticamente e molto spesso poi i talenti vanno via perché con il loro capo con il loro team leader magari in un anno ci hanno parlato una volta credo sia un'osservazione molto interessante in effetti oltre a essere interessante è anche forse troppo poco sottolineata la necessità di confrontarsi di parlare la mancanza al contempo di un momento materialmente il tempo per ritagliarsi queste situazioni di dialogo che rendono più umano il lavoro quindi mi rivolgo alla dottoressa Venero per avere anche il suo spunto ma io vado assolutamente in scia nel senso che lo smart working il lavoro agile tutto quello che abbiamo sono commodity ormai se pensiamo anche alle nuove generazioni se ce l'hai vengo se non ce l'hai non vengo basta non c'è neanche tanta discussione è importante averle troppo spesso ci si concentra sugli optional mettiamola così e avrei detto la stessa cosa c'è un tema interno la tendenza a utilizzare come soluzioni dei tamponi o delle cose più estetiche come si dice che genetiche è un po' quello che poi fa fallire la retention delle persone quindi certamente c'è questo tema del mindset ricordiamoci che abbiamo lo dico anche con una grande autocritica l'azienda italiana ha promosso i manager molto spesso per ore di volo più che per per il numero di ore di volo che per capacità gestionali fare il manager oggi è molto più complicato di fare il manager nel passato molto più complicato perché questo per attività significa anche tenere sotto controllo far tenere sotto controllo una serie di indicatori insomma tante cose molte più cose esterne alla gestione pura delle persone girano intorno alla figura del manager in tutte le imprese internazionali e anche italiane e quindi si è investito poco tempo negli ultimi anni anche se a parole sembra che se ne sia investito molto a formare questa questa capacità anche di tenere un dialogo continuo che non è solo il momento della presa il momento del feedback il momento della separazione involontaria con le persone ma è qualcosa di continuo come dicevamo anche in un altro tavolo sul tema della della formazione quindi sicuramente c'è un tema anche di coerenza cioè prima parlavamo di come attrarre i talenti in quel caso come provare a essere attrattivi sui talenti che potenzialmente potrebbero anche non scegliere l'Italia come meta lavorativa c'è quest'altro tema la coerenza a volte spendiamo tanto tempo in questo periodo in questo periodo in particolare sulla candidate experience stiamo molto concentrati come HR su questa parte sull'acquisire poi però pecchiamo di scarsa coerenza sulla narrazione interna che è una cosa che anche nella mia nella mia pratica quotidiana sto ascoltando con anche dispiacere quindi c'è anche un tema di la persona che ti sceglie per quel progetto per il fatto che hai raccontato una storia dei valori aziendali che poi alla prima al primo nodo del pettine vengono fuori come diciamo così magari a volte proclami più che pensieri veri qua c'è tutto un tema anche di comunicazione che non è solo da un punto di vista di people manager con le persone ma anche proprio la comunicazione aziendale che anche qui è diventata nonostante le funzioni HR stiano diventando ma questo in senso positivo molto marketing nel senso che mi piace l'idea di essere molto più vicina alla funzione del marketing anche per rinforzare l'immagine del datore di lavoro agli occhi del candidato però senza però entrare poi in un rischio di narrazione superficiale dove poi dopo pochi mesi le persone poi ti dicono no non sei autentico come mi avevi raccontato l'altro fenomeno in alcune parti dell'azienda italiana sono le dimissioni entro i 12 mesi dall'assunzione che molto spesso sono sintomi di due cose appunto o un racconto non coerente o proprio una relazione con il capo che magari non è abituato a gestire questa stratificazione di generazione in azienda e non riesce a entrare nello schema di ragionamento dell'ultima generazione magari perché è un baby boomer che spera di andare in pensione adesso qua la butto un po' sullo schematico e sullo stereotipico però c'è anche questo tema cioè la complessità della gestione della persona in un'azienda in cui oggi lavorano cinque generazioni di lavoratori è una scienza per pochi ma è veramente una scienza a volte l'abbiamo un po' banalizzata certo e tra l'altro questo discorso nota bene il fatto che si viene assunti con un dialogo ovviamente con chi è a capo delle risorse umane si conoscono una serie di valori aziendali e poi talvolta parlava di incoerenza cioè della mancata concretizzazione forse di un certo patrimonio valoriale che viene inizialmente acclamato o al contrario manca proprio un confronto appunto di fronte al problema di fronte a quel nodo che viene al pettine che faceva riferimento manca poi la disponibilità di affrontarlo di dialogare per comprendere come risolvere quel nodo e faceva riferimento anche a un discorso generazionale oggi in azienda diceva lavorano cinque generazioni diverse c'è un'evidente questione demografica e anagrafica da sottolineare è una riflessione che pongo a tutti voi per concludere questo nostro incontro perché è evidente che sulla scarsità di talenti pesa un altro fattore peserà sempre più un altro fattore che è quello del crollo demografico l'inverno demografico vede l'Italia tra sicuramente i primi paesi in termini assolutamente negativi è un problema assolutamente italiano e si stima addirittura che da qui al 2050 perderemo pensate sei milioni di lavoratori per cui dobbiamo rassegnarci secondo voi a un futuro scusate che sia sempre più all'insegna di tinte fosche o al contrario insomma abbiamo ancora un margine di miglioramento lo chiedo ognuno di voi per avere un punto di vista interno all'azienda un'analisi più finanziaria e una più giuslavorista sì grazie il tema demografico indiviamente è uno dei temi più importanti e tra l'altro è uno dei temi su cui le previsioni rischiano di essere più precise mentre da una parte prima parlavamo appunto delle previsioni sulla fine del lavoro che si sono dimostrate veramente evanescenti invece dicendo appunto che fra dieci anni avremo sei milioni di lavoratori in meno si basa su dati reali su dati di fatto difficili da da invertire nonostante la necessità appunto di politiche di sostegno appunto alla natalità che però anche se avranno qualche effetto ammesso che ci siano si vedranno appunto a lungo termine non tanto a medio termine quindi siamo di fronte a un'evidenza un'evidenza di emergenza quasi su questo fronte che peraltro viene evidenziata anche dal fatto che ci sia una contraddizione di fondo perché come si diceva prima come diceva l'avvocato Faila indubbiamente siamo di fronte anche ad avere una grande massa di persone che non lavorano non studiano e quindi che in teoria potrebbero entrare nel mondo del lavoro però non hanno le competenze non hanno le capacità non sono nel posto giusto non hanno la volontà e quindi c'è in fondo una contraddizione tra l'avere sempre meno risorse ma avere le risorse che ci sono con l'indisponibilità di queste stesse risorse o del sistema di includere queste risorse quindi le politiche su questo fronte devono essere molteplici non possono essere nessuno può avere la bacchetta magica per risolvere questo problema però va risolto in maniera appunto un po' complessiva per esempio il problema demografico va anche affrontato senza gli schemi che ci sono attualmente sul fronte dell'immigrazione l'immigrazione può essere un fattore fondamentale per dare le risorse per occupare certe posizioni di lavoro per occupare certe possibilità di impiego e che devono essere una risposta appunto anche al sistema economico alla necessità del sistema economico di rimanere dinamico ma dall'altra parte ci vuole appunto anche la capacità di inserire queste persone di motivare queste persone che sono adesso senza un impiego senza la capacità da una parte a formarsi per raggiungere determinati obiettivi dall'altra parte da parte delle imprese ci vuole quella che secondo me sottolineavano nei primi interventi quella capacità di dare delle formule di partecipazione che motivino sempre di più le persone all'interno delle imprese e che li rendano appunto capaci di adeguarsi e di spingere di essere dinamiche rispetto all'esigenza dell'impresa ormai siamo abbiamo superato dovremmo aver superato quella logica delle mansioni del mansionario per cui una persona è chiamata a svolgere all'interno di un'impresa non è chiamata a pensare ma è chiamata a svolgere un'attività dovrebbe essere sempre più diffusa la capacità di rendere partecipi le persone di rendere capaci di svolgere anche in ogni livello una potenzialità creativa come proprio delle persone e qui appunto ci vuole un superamento dello schema tradizionale che dicevo già nei primi interventi quello tra l'impresa da una parte e le maestranze gli operai dall'altra in competizione e non in collaborazione con l'impresa però è un processo culturale che va fatto a largo raggio va fatto nei sindacati va fatto nei politici va fatto nell'informazione ed è una veramente qualcosa che va contro una tendenza di fondo che continua a perpetuare certe logiche certe dimensioni ma perpetuando certe dimensioni nel mondo del cambiamento non si affrontano certamente i problemi e così come appunto il tema demografico è un tema che non basta dire che esiste bisogna in qualche modo cercare di affrontarlo con una visione di lungo termine con una visione però maggiormente aperta rispetto a quella che si è vista fino adesso legata appunto a logiche a logiche diciamo fin troppo rigide fin troppo fin troppo tradizionari bisogna muovere e pensare che in un momento di cambiamento il cambiamento essenziale va fatto anche nella capacità di avere una visione complessiva della società e non confermarsi sui singoli elementi assolutamente penso che sia proprio la visione di insieme poi a fare la differenza e per questo passo la parola all'avvocato Failla per avere appunto una visione più giuslavorista direi provocatoriamente cioè se avremo 6 milioni di posti di lavoro vacanti avremo risolto il problema della disoccupazione in Italia perché io aspetto quel momento perché a quel punto i famosi 4 milioni che oggi non trovano lavoro lo troveranno automaticamente basterà e andassero a sostituire o occupare i posti di lavoro e non sarà così perché 6 milioni in meno di posti di lavoro di cui necessiteremo richiederanno delle competenze che queste persone disoccupate oggi non sono in grado di offrire non hanno ma non ce l'avranno probabilmente in parte neppure l'immigrazione di cui l'Italia ovviamente soffre o usufruisce a seconda dei punti di vista perché non stiamo gestendo queste immigrazioni l'immigrazione in Germania ha avuto un'immigrazione fortissima dalla Turchia però adesso loro cosa hanno fatto? hanno detto va bene arrivano queste persone non parlano tedesco non sanno niente della Germania noi abbiamo bisogno di persone perché avevano bisogno perché l'industria dell'automotive tedesca aveva bisogno di quelle persone hanno fatto investimenti hanno detto quanto costa? avevano i soldi avevano i soldi hanno creato i corsi di formazione lingua prima lingua secondo cultura perché poi se non rispetti le regole dell'ordinamento del paese in cui ti trovi io ti rimando a casa poi salvo gli episodi di Capodanno di cui abbiamo successo qualche anno fa eccetera però hanno fatto questo investimento e oggi loro hanno i turchi che giocano in nazionale ragazzi giocano bene sono bravissimi sono forti no? anche noi abbiamo qualche no? ce l'abbiamo ce l'abbiamo anche noi nell'atletica e viva Dio meno male meno male no? poi abbiamo i tedeschi che vincono nel tennis e sono felice sono tutti non in cioè io sono felicissimo tutti no? battuta a parte però usa fare un investimento cioè ci vogliono ci vuole qualcuno che pensi si messa lì e dire ok benissimo arrivano questi questi ragazzi 18 anni 19 anni 20 anni o sono i figli della seconda generazione eccetera io devo fare un investimento ma ci vogliono i soldi ci vuole qualcuno che lo pensa pensa perché le aziende hanno aperto le porte guardate tutta l'azienda tutta la zona del Mezzana e Brescia delle fonderie ma già 15 anni fa campavano solamente con gli extracomunitari perché quei lavori lì sì gli italiani 18 anni non li volevano più fare e sarà sempre così nella ristorazione sarà sempre così sempre più così la ristorazione è affamata di giovani e non li trova dove li troverà sempre più nelle fasce di extracomunitari ma dovrà essere un fenomeno controllato perché se noi come dire saremo invasi e basta non sarà nulla perché sarà poi fasce di giovani che saranno attratti dagli illegalità lo sappiamo e dalla criminalità che in Italia esiste ovviamente come in tutti i paesi cioè dobbiamo prendere esempio dai paesi che hanno fatto questo Germania Inghilterra Inghilterra era facile tu entravi ovviamente loro hanno avuto un'immigrazione Francia hanno fatto un po' più casino in Francia hanno fatto un po' più casino però in Inghilterra era facile diventavi suddito dalla regina e con questa onoreficenza enorme di valore incomiabile la gente entrava ordinata nei sistemi di meccanismi dell'Inghilterra e quindi nei sistemi li trovate no questo è stato un sistema poi ovviamente scappano sempre come dire delle frange però questa è l'immigrazione controllata che serve al paese noi non possiamo dire vogliamo solamente immigrati che abbiano la laurea in ingegneria è ridicolo non lo possiamo fare non ce lo possiamo permettere manco ci scelgono manco ci scelgono abbiamo bisogno abbiamo fame di altre professionalità magari medie e basse benissimo iniziamo a prenderci quelle perché dovrebbe fare un'analisi sui 6 milioni di posti di lavoro che mancheranno oppure e queste ce le abbiamo l'analisi su oggi il fabbisogno professionale italiano mancano i macellai mancano i macellai i pastori in Val d'Aosta sono tutti pakistani capito perché gli italiani non ci sono più allora dobbiamo come dire regolamentare questo perché sennò poi ci scappano e troviamo le cose che sono successe in Puglia la scorsa settimana che non ci possiamo più permettere l'immigrazione deve essere integrazione in primis e siccome non è sicuramente facile il controllo che faceva riferimento una regolamentazione è essenziale per fare di necessità virtù in qualche modo e ecco per concludere allora lasso la parola alle aziende appunto ma il tema demografico non voglio essere pessimista voglio essere realista è un tema secondo me veramente enorme e all'orizzonte non si vedono delle soluzioni cioè non vedo in questo momento delle soluzioni che possano invertire questa tendenza cioè sicuramente ci sono state delle azioni che sono state fatte però credo non sufficienti a livello legislativo non sufficienti per invertire una tendenza che è molto forte io lavoro da tanti anni nel settore del retail e un po' questo aspetto demografico comincio già a vederlo perché come diceva l'avvocato Failla la ristorazione ma anche il retail hanno continuamente bisogno di persone perché sono settori che si espandono pensate a quanti nuovi negozi aprono le catene di supermercati o le catene retail food e non food e quindi sono luoghi di lavoro che necessitano di persone e si fa sempre più fatica a trovarle di più evidentemente in alcune regioni di meno in altre però si poneva l'accento sulla capacità ad esempio della Germania di introdurre e formare un certo tipo di immigrazione noi però abbiamo anche dei vincoli ci poniamo anche come sistema paese dei vincoli in termini di formazione e lavoro pazzeschi cioè se pensiamo alla formazione duale come è stata portata avanti in alcuni paesi la Svizzera la Germania che riescono a in qualche modo professionalizzare tutta una serie di ragazzi che non accedono all'università ma che devono invece accedere al mercato del lavoro con determinate competenze noi questo facciamo fatichissimo a farlo abbiamo un contratto di apprendistato che per mille ragioni è latitante da ormai più di vent'anni non riusciamo a sviluppare questo strumento è sempre residuale in tutte le statistiche dei contratti di assunzione il contratto di apprendistato è sempre residuale non è neanche ben visto dai nostri giovani che vedono l'apprendistato come il ragazzo di bottega e non è così però va anche flessibilizzato questo contratto va data anche la possibilità all'azienda di essere più flessibile va reso più facile da utilizzare meno oneroso in termini di ore di formazione che magari non sono necessarie e nella modalità in cui viene erogata la formazione quindi c'è anche un tema di saper costruire un sistema della formazione abbinata tra sistema scolastico e sistema delle imprese che consenta di realizzare quelle competenze che servono in futuro perché il lavoro si sta sempre più polarizzando cioè abbiamo bisogno di una fascia di lavoratori molto schillati e poi ci sono tutta una serie di professioni dove è più facile formarsi magari anche in poche settimane la fascia di mezzo sta praticamente scomparendo e sempre di più scomparirà con l'arrivo delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale quindi bisogna anche dotarsi di strumenti contrattuali che ci consentano di risolvere questo problema certo interessante il fatto che il problema sia più attuale che mai le stime parlano da qui al 2050 ma evidentemente voi toccate con mano come diceva il dottor Lattuada un problema che è già in atto ma sì allora anche qua non voglio ripetere quello che è stato detto perché sono tutte osservazioni che ritrovo anche nel mio mondo lasciando stare anche se è un grosso tema il tema di quanto è una risorsa quella cioè puntare anche su una formula di immigrazione diversa controllata e sicuramente più strutturata c'è anche un tema su cui un po' la statistica ci racconta un po' i meccanismi un po' sociali in Italia ci raccontano un altro pezzo perché comunque l'Italia oggi è un paese in cui al di là dell'invecchiamento della popolazione che sarà inesorabile abbiamo una siamo fanalini di coda sui paesi oxe su tutto ciò che riguarda occupazione giovanile se poi disaggreghiamo per genere e per territorio peggio mi sento il fenomeno dei net credo siamo gli ultimi nei paesi sviluppati in termini proprio di presenza l'incidenza della popolazione giovanile rispetto all'educazione terziaria cioè abbiamo tante cose su cui demograficamente purtroppo non possiamo non possiamo raccontare delle storie di successo in più secondo me c'è anche un tema culturale nel senso che da un certo punto di vista vedo e ritrovo anche nelle nuove generazioni laddove le aziende o magari aziende vicine o racconti stanno cercando diciamo così attività più operative non necessariamente manovalanza non necessariamente la produzione una grande anzi una bassissima considerazione del lavoro manuale da parte dei giovani italiani e questo deriva da tutto un tema anche legato a cultura mobilità sociale questo è un tema che secondo me bisognerà prima o poi affrontare un piccolo tentativo rispetto a tutto il tema della formazione su cui non aggiungo altro è che noi un piccolo barlume di sperimentazione lo stiamo facendo con gli ITS quindi questo meccanismo di formazione che è un successo clamoroso nel senso che in termini di come dire match tra domande e offerta è veramente un racconto molto positivo c'è un problema ce ne sono due che oggi gli ITS formano e quindi immettono nel mercato del lavoro 25.000 persone 24.000 forse sistema duale tedesco un milione quindi siamo veramente piccoli piccoli ma dall'altra parte c'è di nuovo un tema culturale nel senso che ho fatto parte in una precedente esperienza del direttivo di un ITS in cui andavamo nelle scuole medie a convincere le famiglie a progettare un percorso scolastico dei figli che non vedesse solo il liceo come unica soluzione o che vedesse la formazione professionale come la formazione del mentecatto del figlio perdente che non ce la farà mai l'ITS è una cosa da sviluppare se ne parla se ne parla ancora troppo poco non credo che risolverà il problema della mancanza di lavoratori ma sicuramente oggi sta facendo molto se penso anche a determinati distretti cioè ci sono aziende che hanno creato dei corsi di ITS proprio per sopperire a questo discorso della pianificazione della forza lavoro rimango anch'io abbastanza pessimista soprattutto rispetto al fatto che la dinamica del paese Italia non non vedo nei numeri una dinamica positiva faccio un'ultima citazione che la spesa media del PIL per attività di natura formativa dove la media è il 4,9% del PIL l'Italia è il 4,1% ma questo 0,8% al di là del fatto che è sensibilmente più piccolo non è figlio di una situazione stabile è figlio di una serie di investimenti che poi via via nel tempo non sono rimasti stabili neanche sono pure diminuiti quindi c'è anche una preoccupante ma costante considerazione della formazione come qualcosa di non così strategico ecco considerare la formazione come strategica sarebbe già un primo passo per ricostruire tutta quella filiera di competenze che in questo momento ci fa vedere a questi 6 milioni di posti vacanti del futuro con estrema preoccupazione certo è forse il primo step da raggiungere per seguire questo obiettivo dietro cui si cela effettivamente è anche una mentalità ormai radicata perché c'era l'idea che solo facendo il liceo avresti trovato lavoro perché sareste andato all'università oggi l'accesso all'università è pressoché indistinto una volta chi andava all'università era una nicchia una percentuale nettamente più bassa se paragonata ai numeri di oggi e quindi lo dicevamo anche in precedenza gli istituti tecnici che invece danno una formazione più mirata più specifica e andrebbe a soddisfare una domanda che resta ancora fortemente vacante di posti di lavoro richiestissimi ma di cui non si trova personale ecco che anziché essere bistrattato andrebbe maggiormente valorizzato io vi ringrazio nuovamente per la disponibilità si conclude così questa mattinata in cui abbiamo davvero analizzato a 360 gradi il tema del lavoro e del mondo e vi ringrazio per gli spunti che ci avete offerto un po' Grazie a tutti.